quello può fare il pescatore lo fa pure bene però sta sempre messa a cassa capito che ti voglio dire è fastidioso e dice che lui non ti ha dato un centesimo ha detto che devi mandare i bonifici ha detto fammi mandare le foto e a me mi ha detto che a me non mi ha dato una lira manca te no ma lui lui davanti a me perché con quella faccia da cazzo ci stava simpatico oggi faccio la lista movimenti della mia post pay e della mamma c'aveva duemila follower c'aveva e tre mila euro da darci 21 mila ha appresi grazie a noi lui è un altro è un altro nostro figlioscio quello che io ti voglio dire quello che io ti voglio dire adesso allora lui dice che noi fin quando ah sì c'è là con te perché lui quando parla con me c'è là con te quando parla con te c'è là con me è ovvio no è giusto che fa per tenere il filo per tenere per tenere il filo dice che a Roma non viene perché con tutti i suoi precedenti tu lo faresti arrestare caro agente senti caro mio io tu me stai sul cazzo e lo sai molto bene quindi la nostra non è amicissima ma il brasiliano un po' alice alice ormai mi ha detto no no non ci fare pace io non ci voglio fare pace pure simona mi dice sempre così ma no ma io e te non dobbiamo fare pace però ti auguro a te la tua famiglia un buon natale te saluto bello il brasiliano vi augura una buona domenica non odiate amate perché quando voi amate verrete amati di conseguenza la vita è un amare costantemente io ti amo a te tu mi ami a me io te sparo a te tu mi spari al cazzo la vita è questa capito che ti voglio dire la vita la vita è un dare e avere tu mi dai a me 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 è questa la vita uff 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 uff